Io credo che ci sia un qualcosa di veramente surreale intorno a quello che leggiamo a proposito del Milan soprattutto in questi ultimi due anni, diciamo così dallo scudetto del 2022 in poi. Il club rossonero nella stagione 2021-2022 ha vinto lo scudetto 86 punti, uno scudetto abbastanza inatteso primeggiando sull'Inter per due soli punti, 86-84. Ma da allora la narrazione è stata quasi più critica che non positiva per quello che il Milan era diventato, era tornato ad essere. Ne parliamo nel video di oggi, non prima di avervi ricordato Fubolitics, la mia newsletter a cui potete iscrivervi al link in descrizione, il like al video se vi è piaciuto, l'iscrizione al canale e poi naturalmente la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E sentiamoci nei commenti. Nelle stagioni post dominio della Juventus il Milan ha avuto una media di 79,25 punti. Sono circa 5 punti dietro all'Inter che ne ha fatti 85 ai 25, 6 punti per la precisione. Ma è stato quello più continuo nei risultati perché c'è uno scarto migliore. Il Milan ha una sua solidità, l'Inter è passata dai 90 ai 70, ha avuto alti e bassi diversi. Nelle quattro stagioni precedenti il Milan non era mai arrivato a 70 punti e dalla qualificazione in Champions League. Io credo che ci sia un problema di fondo che è questo. Il pubblico rosso-nero si è abituato tra gli anni 90 e il 2000 al mecenatismo berlusconiano come unico orizzonte di sviluppo. E io lo so e lo capisco che vincere 5 Champions League sia un qualcosa di straordinario e di molto importante. Champions League che si aggiungono anche alle finali giocate perché pure quelle sono degli obiettivi. Ma bisogna secondo me poi analizzare in chiave storica quello che accade. Nel 2002-2003 il Milan toccò il punto massimo nella Deloitte Money League che come sapete immagino è quella classifica che Deloitte fa ogni anno sui club europei che incassano di più. aveva 200 milioni di ricavi, terzo in Europa, dietro alla Juventus 218 e al Manchester United 251. Nei dieci anni successivi, anche con praticamente la scomparsa della Juventus, una principale competitore, cosa che avrebbe potuto, che non le ha giovato nel breve perché quando la Juve va in B la Serie A subisce un contraccolpo, ma in dieci anni tu sei il Milan e devi pianificare una crescita. Invece, mentre gli altri investivano, il Milan perdeva i treni. E nel 2011-2012 risultava ottavo a livello europeo con la metà esatta dei ricavi del Real Madrid. Il Real Madrid faceva 512, il Milan 256. È significativo, tra l'altro è un bellissimo numero, la metà esatta dei ricavi del Real Madrid, 512-256. Negli anni successivi, negli anni in particolare dell'addio di Berlusconi, che è stato un po' dilazionato entro due, tre, quattro stagioni, l'ex presidente non trovò mai nulla di meglio che dire che il calcio non era più sostenibile per lui, salvo poi portare il Monza dalla C alla A con perdite fisse tra i 20-30 milioni all'anno, ma questa è un'altra storia. E Silvio Berlusconi spesso evocava gli sceicchi, ma dimenticando i modelli di business che nel frattempo avevano implementato il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester United, il Bayern di Monaco, che i sceicchi non ce li avevano. E dopo l'avventura di Yongongli, su cui voglio stendere un velo pietoso, il 21 luglio del 2018, il Milan è passato al fondo Elliot, ottenendo subito, peraltro, una dilazione di controlli UEFA, senza tuttavia evitare l'esclusione dalle coppe 19-20. Ricorderete il caso, questo lo ricordo anche perché quando si dice l'UEFA, i tempi, eccetera, l'UEFA nei confronti del Milan fu assolutamente magnanima. Cambio di proprietà, cambio di scenario, si disse ok, lasciamo operare la nuova proprietà, perché il Milan sappiamo che doveva essere sanzionato. Elliot entra, opera, non riesce ad evitare l'esclusione 2019-20, nonostante questo, solo dopo due stagioni da quell'esclusione europea, il Milan vince il campionato, 86 punti, che non sono un risultato straordinario, e probabilmente l'Inter ci aveva messo del suo per non vincere quel campionato, ma comunque si vince, come dice Allegri di Cortomuso, un punto in più, il Milan FC2 in più, campione d'Italia, scudetto sulle maglie del Milan e sulla pelle di Pioli che se lo è tatuato. Vince il campionato e dal 2020-21 ha iniziato a stare stabilmente in Champions League, e come abbiamo detto prima i numeri danno ragione al Milan. Ora, sentir dire o leggere, ma passerebbe in cavalleria se lo sentissi solo sui social, dove tutti possono dire quello che vogliono, ma poi rispondono per se stessi. Redbird tira a campare, Redbird non vince, non vuol vincere, gli interessano solo i soldi della Champions League. Onestamente dovrebbe essere derubricato a una chiacchiera da bar tra ubriachi, se non fosse che viene più o meno velatamente ripetuta anche su diversi media che non sono social, dove bisognerebbe andarci anche per titoli. Eppure, sembra essere con convinzione comune che gli americani abbiano in mente altro. Ora, secondo me è sempre bene innanzitutto fare una premessa. Quando vi citano Moneyball e poi si compra Alvaro Morata, vi stanno supercazzolando. Ma qui finisce la polemica tra me e il sottoscritto che lasciamo da parte, perché poi lo abbiamo fatto per la Juventus, lo facciamo anche col Milan. Una cosa sono le narrazioni di comodo, e una cosa poi è la realtà. Questa cosa di Moneyball fa il paio con la Juventus che dice che i giovani sono il futuro. Poi ci sono i conti, c'è il ritorno dei conti, e poi ci sono i giocatori che fanno la differenza ai non, ok? Ma questo non toglie la supercazzola di Moneyball, che poi, attenzione, viene usato, perché i dati oggi li utilizza chiunque. Chi con un metodo, chi con l'altro, chi più per una cosa, chi più per l'altro. Quindi evocare continuamente i dati ormai è veramente una storia a bolsa. Ma questo non toglie che il Milan, in questi anni di gestione Elliot Redbird, ha ritrovato il suo posto storico ai piani alti del calcio italiano. È fuori di dubbio che è così. Nel 2022, lo ripeto, ha vinto lo Scudetto. Nel 2023 è tornato all'utile per la prima volta dal 2006. Quindi ha vinto lo Scudetto dentro un percorso virtuoso di risanamento dei conti. È chiaro che per il tifoso che riconosce il mecenatismo e gli alibi come unico metro di gestione sia difficile individuare i percorsi virtuosi al di là delle vittorie e delle sconfitte sul campo. Ma una cosa va capita. La condizione essenziale per poter vincere e farlo continuamente è mettersi nelle condizioni di competere ai massimi livelli ogni anno. E questo è lo step che il Milan americano ha fatto. Poi ti capita di avere davanti la Juventus, come è capitato alla Roma di Spalletti che arriva a seconda a 1987, o al Napoli di Sarri a seconda a 1991. E allora vincono gli altri e fanno festa agli altri. Ma l'importanza di avere una struttura e una prospettiva è qualcosa di impagabile. E se il Milan avesse iniziato a lavorarci vent'anni fa, nel 2002-2003, quando era il terzo club europeo per ricavi, io sono certo che a quest'ora forse avrebbe qualche Champions in più. E attenzione che non ho citato la semifinale di due anni fa, perché, signori, il problema è questo. La Champions League, comunque, non è programmabile a livello di risultato, proprio perché è un torneo che si basa su 13 partite, si basava, ho cambiato qualcosa, ma 13 partite di cui 7 le fai di playoff. E quindi andare fuori alla settima o andare fuori alla dodicesima fa poca differenza se alla settima hai un sorteggio buono e alla dodicesima ti capita quello sbagliato o viceversa. Quindi non parliamo di Champions League. Però, se vogliamo capire dove va il calcio e dove deve andare il calcio per garantirci stabilità di risultati e divertimento, anche nel lungo periodo, bisogna considerare che possiamo anche dimenticarci di stare lì a informarci ogni giorno su come vanno i conti dei club. Io penso che tanti tifosi esagerino in questa attenzione. Io me ne occupo perché lo faccio di lavoro, ma c'è un'esagerazione da questo punto di vista. Il mio è più un giornalismo, diciamo così, B2B, rivolto a chi vuole avere una conoscenza molto più vicina al lato professionale. Ma se non stai attento ai conti, anche se sei il club più titolato del mondo, il passo da club più titolato del mondo a Pro Vercelli d'Europa è molto più breve di quanto tu possa pensare. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi rimando ai commenti, ci risentiamo lì, aggiungete, commentate, criticate. Se lo ritenete, a presto sul mio canale, buona giornata.